Buongiorno, parliamo ancora della Marina Militare in questa puntata e dedichiamo la puntata in segno di solidarietà ai nostri due marò ancora bloccati in India. Sei italiani equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio militare in Mediterraneo a vantaggio dell'asse. Questa è la dichiarazione di Winston Churchill dopo un'impresa della nostra Marina Militare compiuta il 19 dicembre del 1941. È passata la storia come l'impresa di Alessandria perché sei incursori della decima mass riuscirono a penetrare nella notte nel porto di Alessandria d'Egitto e a colpire la flotta inglese. I materiali di costo irrisorio dei quali parla con disprezzo Winston Churchill erano una delle straordinarie invenzioni italiane. I siluri a lenta corsa più noti anche come maiali. Viaggiavano sott'acqua portando a cavallo ognuno due sommozzatori. Obiettivo della missione era posizionare l'esplosivo sotto la chiglia delle navi. Furono colpite la Queen Elizabeth, la Valiant e il cacciatorpediniere Gervis e anche una nave cisterna. Fu un colpo duro per la flotta britannica. Il fondale del porto di Alessandria era basso e le navi colpite si adagiarono senza essere sommerse dall'acqua. Gli inglesi ne approfitarono per minimizzare la portata del colpo che avevano subito. Le navi erano fuori combattimento ma loro evitarono di diffondere la notizia e fecero svolgere la regolare vita a bordo per ingannare gli aerei recognitori italiani. La Marina italiana era un'arma decisamente riottosa alle parate del regime fascista ma svolgeva con impegno i suoi compiti in difesa del paese. Dopo l'armistizio, dopo la caduta del fascismo, quindi dopo l'8 settembre del 1943, gli inglesi per primi, quando cominciò la guerra di liberazione, gli inglesi per primi riconobbero il valore dei nostri marinai nell'impresa di Alessandria. Quindi pensate, nonostante il colpo che avevano subito, il coraggio dei nostri marinai era tale che i nemici di allora, i nemici di prima, gli inglesi ne riconobbero il valore e fu proprio il comodoro Sir Charles Morgan, ex comandante della Valiant, una delle navi affondate, che volle consegnare le medaglie ai nostri marinai. Beh, è un'icona per la nostra Marina, è un simbolo tra quelli che sono fondanti per quello che riguarda i nostri valori e quindi è importantissima ed è per questo che io ho desiderato proprio stabilire questa data come una di quelle date che devono essere celebrate in tutta la Marina. All'epoca era come essere degli astronauti perché non c'era il mondo subacqueo come lo conosciamo adesso con le ditte che forniscono tutti i materiali alla portata dei ragazzini che vanno sott'acqua. Di fatto nessuno andava sott'acqua se non pochissimi esseri umani in giro per il mondo e non senza apparecchiature leggere che furono di fatto perfezionate dagli italiani per primi. Quindi voi immaginatevi come degli astronauti che in presenza di una minaccia costante di chi deve difendere un porto riescono di notte seguendo dei cacciatorpediniere inglesi entrare sotto le loro chiglie, nuotare sotto al cacciatorpediniere o perlomeno cavalcare dei siluri e portarsi poi all'interno e sotto le carene di queste corazzate. E uno dei due siluri si ruppe e quindi De La Pen lo trascinò insieme al suo operatore Bianchi fisicamente sul fondo. Quindi i nostri uomini catturati si trovarono sotto forte pressione? Indubbiamente si trovarono sotto forte pressione, resistettero, dettano anche prova di umanità perché risparmiarono inutile spargimento di sangue avvertendo il comandante della nave che di lì a cinque minuti, un tempo insufficiente a spostare la corazzata, la nave sarebbe saltata in aria. Nonostante loro fossero stati rimessi nel pozzo catene non hanno mai informato di dove fosse la carica. Quando la nave esplosa loro sono fortunosamente riusciti a salire in coperta e gli inglesi al loro passaggio si alzavano tutti in piedi e li salutavano proprio come riconoscimento di questo coraggio e di questa grande lealtà. Per i profani potrebbe spiegare cos'è il pozzo catene? Il pozzo catene è praticamente la zona più bassa della nave nella prua dove si accumula la catena dell'ancora e quindi loro erano seduti sostanzialmente sulle maglie delle catene. Non è un bel posto dove... No, è un posto che effettivamente somiglia all'inferno. Gli italiani erano quindi particolarmente avanti in questo settore? Noi abbiamo cominciato nella prima guerra mondiale con il Grillo che era una specie di carro armato galleggiante o affiorante il quale grazie ai suoi cingoli superava le barriere, superava le reti di ostruzione. E poi durante la seconda guerra mondiale, fin dall'inizio, avevamo messo a punto un reparto speciale che aveva sviluppato delle tecniche completamente nuove e questo ci consentì di sorprendere totalmente gli inglesi. La Marina ha un ruolo centrale in tutta la storia italiana. È una nave della Marina, la corvetta Baionetta, che porta in gran segreto Re Vittorio Emanuele III al porto di Brindisi il 10 settembre del 1943 e per approfondire questo argomento c'è il libro di Gianluigi Barneschi intitolato L'inglese che viaggiò con il re e con Badoglio, sottotitolo Le missioni speciali dell'agente Dick Mallaby. Sì, perché dopo una lunga ricerca, Barneschi è in grado di documentare la presenza a bordo del Baionetta di un agente segreto del SOE, lo Special Operation Executive, ovvero il servizio segreto inglese. Come scrive Francesco Perfetti nella prefazione di questo libro, piacerebbe certamente ad uno scrittore di spy stories come Ken Follett la vicenda raccontata in questo volume. Effettivamente, nel pomeriggio del 10 settembre 1943, nel porto di Brindisi fu visto sbarcare dal Baionetta un inglese di bell'aspetto e poliglotta. Oggi, finalmente, il libro di Barneschi ci spiega la missione di quest'inglese e ci racconta questo personaggio. Era uno dei più abili agenti segreti inglesi, Dick Mallaby, che sarà poi anche operativo nella resa di Carl Wolf, il capo dell'SS in Italia. Bene, termina qui il TG1 Storia, che vi ricordo potete rivedere sul sito del TG1 e potete scrivere anche alla pagina Facebook che state leggendo in questo momento. Scrivete i vostri commenti e restiamo in contatto. Grazie per averci seguito, appuntamento al lunedì prossimo.